voi mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore è fondamentale che noi oggi che ci sentiamo indegni che ci sentiamo peccatori e che probabilmente ci sentiamo così perché abbiamo in mente qualcosa che abbiamo fatto abbiamo in mente un aspetto del nostro carattere abbiamo in mente qualcosa di noi che forse non sa nessun altro come Davide ma Gesù ti sta dicendo se mi cerchi mi trovi se viene a me il Signore ti accoglie è scritto in Giobbe Dio è onnipotente ma non respinge nessuno se tu hai fame di Lui se tu lo desideri veramente il Signore ti accoglie a sé e il Signore ti sfama ti darà soddisfazione a questo tuo bisogno Grazie a tutti